Ciao ragazzi, benvenuti alla seconda puntata della pallavolo in pillole. Oggi parleremo dei fondamentali della pallavolo. Partiamo dal primo, il palleggio. Palla sopra la testa e spingiamo con le gambe. Poi abbiamo il nostro bagger, usiamo tantissimo le gambe. Poi abbiamo la battuta che per i più piccolini useremo la battuta ancora dal basso e per i grandi useremo la battuta dall'alto. Non lasciamo da parte la nostra schiacciata che ci aiuterà a vincere le nostre partite. Buona giornata a tutti ragazzi, ciao! Grazie. 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 Grazie.